Ciao amici, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio rifare i cannoli siciliani, le cialde, con la ricetta dell'amica Tina. Tina è un'amica iscritta che mi segue spesso sul canale, anzi la saluto. Ciao Tina. Mi ha fatto molto piacere perché mi ha messo a disposizione questa ricetta, la ricetta della nonna e della zia. Quindi ora vado a preparare queste cialde e seguirò tutti i consigli che mi ha scritto, che mi ha mandato. Seguitemi. Allora ho preparato tutti gli ingredienti, la farina, l'uovo intero, mezzo bicchiere di vino, la cannella che metto direttamente nella farina, lo strutto, lo aggiungo a pezzettini, l'uovo l'ho sbattuto leggermente con una forchetta, poi metterò lo zucchero, giro un pochino e poi comincio a sfarinare così con le mani, quello è l'albume che userò dopo, metto il vino piano piano, quindi mezzo bicchiere all'incirca di vino bianco, anche rosso se volete, così come dice la ricetta, però se serve ne aggiungo un altro boccino. Questo è il vino nostro, è molto buono, è dolce, è abbastanza forte. Continuo con le mani fino a che l'impasto non diventa ben amalgamato. Lo lavoro poi un pochino sul piano di lavoro. Se serve metto un pochino di farina, se lo sento un po' appiccicoso perché forse ho messo troppo vino, ci regoliamo con il vino. Ecco qua, io direi l'impasto così è pronto. Questa volta lo stendo con la macchinetta, come mi hanno suggerito le mie amiche iscritte. Ora lo lascio riposare mezz'ora, lo copro con la pellicola e lo faccio riposare. Ed ecco qua, comincio a stenderne un pezzo, provo prima un pezzo, quindi copro il resto per non farlo seccare. Seguo tutti i consigli di tina questa volta, stendo la sfoglia, così dovrebbe bastare, un millimetro, un millimetro e mezzo. Ora io non ho il coppapasta così grande perché dovrebbe essere di 12 cm di diametro, quindi sto usando questo contenitore. Come vedete viene bene. Bene, provo, vediamo un po', così. Ok. Metto l'albume, spennello una parte con l'albume, come dice la ricetta, e poi arrotolo. Sì, questo metodo è molto più pratico, senza star lì a fare lo stampo del rombo, così viene molto meglio, quando c'è rotola viene perfetto. Con l'albume per farlo attaccare bene, perché altrimenti si potrebbe aprire in cottura, quando si frigge. Ok. Nel frattempo sto scaldando l'olio, olio di arachide, uso una pentola non larghissima, un po' stretta, perché così ci sarà meno spreco di olio, olio di semi di arachide. controllo la temperatura, non deve superare i 170 gradi, quindi una volta dorati, li tiro fuori e li faccio asciugare su una carta assorbente. Li faccio freddare un pochino, poi con una leggera torsione, sfilo lo stampo d'acciaio che è dentro. Ed eccoli qua. Come vedete, sono abbastanza sottili, ma non troppo perché sennò si spezzano tutti, si sono create le bolle in superficie e quindi va bene così. Ora non ci resta che farcirli con la ricotta. Ed ecco i miei cannoli farciti, corro subito ad assaggiarne uno, sono veramente squisiti. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video, lasciar un like e ringrazio naturalmente Tina per questa ottima ricetta. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.